salve a tutti sono giovanni matola e sono il vincitore di intrecci in cantiere 2021 per la sezione belletteria ogni anno manifattura di domodossola mette a disposizione i suoi migliori intrecci agli studenti di design permettendoci di mettere in pratica le nostre idee di esprimere il nostro punto di vista creativo nel mio caso sono rimasto immediatamente colpito dalla bellezza di una rafia fantasia animaliere e ho pensato ad un modello che potesse mettere in luce tale bellezza esprimendo sia il mio stile che quello di attison in seguito alla vittoria sono stato invitato a domodossola a visitare il luogo in cui questi intrecci prendono vita ed è stato per me un'esperienza davvero molto formativa ed interessante inoltre sono stato coinvolto nell'industrializzazione della borsa definitiva che verrà commercializzata da mirta.com e per me è stata davvero gratificante seguire le varie fasi aver voce in capitolo sulle modifiche da portare e sulle varianti colore vincere intrecci in cantiere è stata per me una grande emozione oltre che a rappresentare un po un trampolino di lancio per iniziare la mia carriera in questo settore per questo volevo ringraziare i giudici e Manifattura più in generale per dare a noi questa grande opportunità e spero che la collaborazione possa continuare anche per il futuro grazie mille